La salute dei nostri figli viene prima di tutto e quanto hanno ribadito stamani con un presidio dinanzi ai cancelli i genitori degli alunni che frequentano la scuola Giacomo Costa di Fratte. Mamma e papà hanno deciso di manifestare contro le emissioni e i cattivi odori provenienti dalle vicine Fonderie Pisano. L'episodio che ha acceso la miccia è datato 20 ottobre scorso, un odore nauseabondo ha raggiunto le aule dei piccoli alunni ed i genitori sull'episodio hanno anche presentato l'ennesima denuncia ai carabinieri. Allora oggi siamo qui riuniti perché non possiamo più aspettare, non possiamo aspettare perché la salute dei nostri figli viene prima di tutto e non possiamo neanche barattare il diritto allo studio, alla scuola che ci viene assicurato. Noi veniamo qui, stiamo alle regole ma l'istituzione dovrebbe permetterci di non mettere a rischio la salute dei nostri figli. Purtroppo è di due settimane fa una giornata terribile il 20 ottobre quando nelle classi dei nostri bambini la puzza era presente, faceva caldo e non si potevano tenere le finestre chiuse. Come possiamo fare? Sappiamo che l'esposizione continua e giornaliera ad agenti inquinanti può portare a patologie, patologie nel caso dell'inquinamento atmosferico che riguardano sì le vie respiratorie ma anche patologie più importanti. Chiediamo un intervento alle istituzioni, un intervento radicale. I dubbi ci sono visto che c'è un monitoraggio clinico in corso su 400 persone. Togliamoceli una volta per tutte, andiamo alla fonte del problema e i monitoraggi e tutto quello che c'è sull'area sono sufficienti per chiedere delle soluzioni definitive alle istituzioni. Tra i genitori degli alunni della costa anche Gianluca Di Martino, già presidente di Lega Ambiente Salerno ed ora coinvolto nella battaglia in duplice veste anche di genitore. I figli ci dicono papà ma perché sentiamo puzza? Quindi è una cosa molto semplice, la voce è la verità che appunto ripetisce un disagio della popolazione salernitana, in particolare di chi vive la città a ridosso il fiume, in tutta la zona, fino a Torrione praticamente fino alla foce. Ancora oggi diciamo che è impossibile pensare che questa città debba essere invivibile quando le correnti di eventi appunto portano i fumi della fonderia verso qui. Non è possibile per noi portare i bimbi a scuola e pensare appunto che quella mattina i bambini possano avvenenarsi con le polveri sottili tossiche della fonderia Pisano. E al fianco delle mamme e papà della Giacomo Costa c'era stamani il Comitato Salute e Vita rappresentato da Lorenzo Forte che ancora una volta invoca al Sindaco di Salerno un'ordinanza di chiusura immediata dello stabilimento di Fratte. Oggi viene rappresentata e si chiede al Sindaco di Salerno un'immediata ordinanza di chiusura per garantire la salute dei cittadini, dei bambini e anche degli stessi lavoratori. Grazie a tutti.